Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Coq Clash of Clans Perché vabbè come al solito video, ma oggi mi era venuto in mente una cosa, ve la vi faccio vedere Tanto la titola è letta, però la facciamo dopo Allora, detto questo, ovvero l'idea è, dato che ce le ho le gemme per farlo E dato che gemmerò probabilmente un altro po', non ditela a nessuno Voglio prendere le due statue antiche, metterle vicine e vedere che... Non lo so, che cosa succede, perché già ne hanno muschio Quindi avremo in teoria due statue, due antiche statua barbarica Potremmo fare magari cose, boh non lo so che cosa succede, devo essere sincero ovviamente non ne ho la propria idea Però lo scopriremo alla fine di questo video Abbiamo il laboratorio, ho messo a fare il gigante livello 8 Tanta roba il gigante livello 8, penso asfalterà chiunque Abbiamo quasi tutto al 4, questo è il livello 2, questo ce l'abbiamo di livello 3 I più tardi ancora sono giovani, non li utilizziamo, spacca tutto pure non si utilizza tanto Però lì ai massimi abbiamo già tutto maxed Quasi tutto Continuiamo oggi comunque a maxare, andiamo a fare il primo attacco E tentiamo di portare a casa la vittoria ovviamente Si vede questo è un... non è... non savo per dire che questo è inattivo perché c'è un sacco di roba intorno Boh non lo so Vediamo un po', iniziamo comunque a maciullare il suo territorio Sempre archi, è sempre archi, archetti, arcotti Mazzona che cazzo dico Ok, qui mettiamo sempre un po' di gente perché dovremo far fronte a diversi stronzi Tac, e ne mettiamo un paio anche qua, questo l'abbiamo spaccato Spacchiamo mano anche lui, bellissime che sono esplose 4.797 bombe E poi da qui a sto punto io direi grazie, sfruttando l'invisibilità andiamo a distruggere il mantello lì, quel coso là Uccidiamo, vai, vai così, vai così, vai così Uccidiamo anche lui, se riusciamo a spaccare il cannone sono una persona felice e non ci siamo riusciti 57% e portiamo a casa forse la vittoria Incrociando le dita No, 61% c'è fatto, c'è la massacrata Ecco il cannone, magari vincevo, hai visto? Va bene, comunque possiamo attivare a sto punto il potenziamento della torre dell'orologio Che dovrei potenziare E porteremo anche la torre dell'orologio Però dopo adesso voglio fare, ve l'ho detto, difese Sono molti importanti E poi, e poi, e poi, e poi, e poi le mine pure Dobbiamo portare su, perché ce l'ho di livello 3 E questo è ancora di livello 1 Quindi c'è da fare, c'è da fare molto Il clan, mi avete detto che lo volete? Parecchi mi hanno detto che vogliono il clan Probabilmente lo faremo Poi, per quanto riguarda la prossima statua, no? Perché è stato della regina e degli arcieri Ancora è prestissimo per farla Questi sono i pini, tutto il resto Li prenderemo tra un po', ancora non mi interessano particolarmente L'idea è proprio quella di tenere il villaggio bello e limpido Andiamo a fare l'altro attacco Forza, carichi i duri masticci incazzati All blacks Vediamo come attaccare qua L'idea potrebbe essere proprio sempre quella Però lì, qui ci sono tipo il mondo, cioè, di mine Quindi non conviene, secondo me, andare proprio ad appesantire Ad attaccare pesantemente dei giganti Perché me li potrebbe stuprare, però malissimo Detta questa Tac, ma questo è accaduto nel costruttore di che livello? No, livello 4, perché questo è di livello 4 Uccidilo, 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 uccidilo C'è morto, grand Grandi così Bomberoni Questo è morto C'abbiamo 22 arcieri, qui ce ne sono ancora un po' L'idea è proprio quella di andare a massacrare queste torri qua Questo pure abbiamo massacrato Qui c'è niente No, tac Vai così, vai così, ok abbiamo finito il tutto, 53%, infatti ovviamente c'erano tutte le trappole a scatto possibili immaginabili del mondo Abbiamo fatto bene a non andare di giganti 61%, magari riusciamo a fare qualcosa, quella non morirà mai, 0, ok va bene 61% di danno, vediamo quanto riesce a fare lui Aspettiamo che finisca e poi facciamo magari il prossimo attacco Stavolta pareggio, abbiamo pareggiato Voglio cambiare tecnica d'attacco, ho necessità di fare qualcosa di nuovo, innovativo e figo Vediamo un po', però Anche qui lui avrà disseminato i giganti, non voglio usarli perché Ma avrà sicuramente disseminato il terreno, dimostri male Cioè ci sarà il mondo qui Che cosa come cazzo facciamo? Andiamo a prendere il tonal, allora vediamo Se devo andare a prendere il tonal, ho i giganti Posso utilizzare gli arce, a questo punto i barbari Perché fanno anche da non lontano Qualche gigante in più E siamo a posto così Allora vediamo un po', tac Tac, e tutti qua Ci metti gli arcieri che iniziano a randellare dietro E poi appena aprono Vai di barbari, giusto? Certo Vai con i barbarozzi E inizi a spaccargli il mondo Pesantemente, ok? Quindi butti qualche altro arciere dietro E poi successivamente vai di nuovo di barbari Proprio a rompere il più possibile il mondo Così gli ho già spaccato il municipio Così gli spacchiamo Ecco, questo mi sta su un culo Il fatto che ci sia stato spaccoso Beh, abbiamo fatto il 35% Non è tanto, io lo riconosco Che si poteva far di meglio Per carità 35%, forse 36% con quello Però questo 40% col tonal Guarda, il 40% col tonal Si poteva sicuramente far meglio Perché sono morti alcune Alcune truppe a caso E infatti lui ci ha fatto Con solo 40 barbari, porca troppo Però non mi dispiace Questa tecnica d'attacco Potremmo fare parecchio Potremmo fare parecchio Il tonal lo prendi In linea massima, così Adesso questa come la farei? Come la farei? Come la farei? Come la farei? Questa possiamo provare Tutti Tutti archi Tutti archi E poi cazzo voglio vincere Perché è una vita Che non vinco Taratara Taratara Facciamo una cosa Un po' più Incazzata adesso Buttiamo giù il mondo E vediamo Proviamo a prendere anche il tonal Se riusciamo Magari sperando che abbia Poche mine sto ragazzo Tac Andiamo subito a rompere Le torri degli arcieri Tutte queste belle cose Che ci danno un fastidio notevole Il cannone pure Durerà poco ancora 44% Ma dai Il cannone non c'è Cioè che cazzo Tac Tac Bene Cannone istrutto 50% fatto E secondo me Io Non lo prendo il coso No probabilmente Non ce la facciamo A prendere Il municipio Perché Questo La sala è il costruttore Comunque in questo caso Perché questo Ce li massacra I nostri cari amici 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 Come cazzo parlo Stri cari amici Sì Infatti andiamo a fare Un po' di percentuali In più comunque Che il 57% Che non è male Sì Quello muore Va bene Ok 0 Abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo fatto Il 57% Contro 57 Contro un haul Porca troia O non vinco una partita Una vittoria L'ho portata a casa Finalmente Quindi sto aspettando Ancora un minuto e 42 Per Fare la terza Però il punto è Che cosa Upgradiamo Bella domanda Ci entreranno Al 310 Se vinciamo subito Mila Sgay Come si dice Andiamo a Prendete 310 Con 310 Potremmo fare diverse Questo no Potremmo portare I petardi di livello 4 Questo Non possiamo fare Però questo Forse la tesla occulta Di livello 4 Potrebbe essere Davvero Una bella trovata Perché Beh boia La tesla occulta È straforte Cazzo Quindi sì Secondo me Tesla Potrebbe essere Un'idea 4 gem E cavolo Gemmiamo E andiamo a fare Subito Questo attacco Adesso Non sembra Proprio Impossibile Come cosa Anche perché Questo C'ha un coso Qui Quindi io direi Di partire subito Da sta parte Riusciamo a prenderlo A tancarlo No Deve passare Necessariamente in mezzo Questo È un po' un problema Ci disturba Il fatto che Deve passare in mezzo Faccio un attivo Di rinforzi qua Per uccidere Il carcere E comunque Spaccare meglio Questo Lo sta facendo Di livello 4 Anche noi Porteremo di livello 4 Non vedo l'ora Il prima possibile Qui non posso Schierar gente Gli spaccheremo Quella parte La spaccheremo Più avanti Voglio mettere qualcuna A distruggere Quella parte Il deposito Quasi distrutto Dai dai ci manca poco Ancora no Manca uno Comunque Un sacco divisa Il deposito E questo è una Componente che potrebbe Comunque giocare A nostro favore Ah ecco qua Da qui lo prendi Molto bene Quindi devi prendere Questo Questo Dai quello è quasi Morto Perfetto 46% Andiamo Proviamo a far qualcosa Di più figo Tackle 50 Dai che ci arriviamo 55 Ecco qui c'era Il delirio praticamente Però 55% Va più che bene Vediamo lui Quanto riesce a farci Aveva le difese Molto alte Quindi questo significa Gioca 57 Io C'ho il problema Il municipio si raggiunge Troppo facilmente Forse sarà il caso Magari fare una piccola Modifica Di questo tipo Così il municipio È proprio al centro Del villaggio Ed è difficile raggiungerlo Chiuso L'ultimo attacco Al 67% Contro un 35% Che lascia desiderare In effetti Sale il costruttore Dentro Fa il suo effetto Magari potremmo Spostare la tesla Anche all'interno Perché qui la tesla Non ha molto senso Magari qua ci mettiamo Un cannone E lì c'è No vabbè No scherzavo La tesla Però la mettiamo dentro Volentieri Questo deve stare attaccato Al coso Non lo so Comunque un posto lo troveremo Sicuramente La miglioriamo In 10 ore Portando Almeno anche questa Di livello 4 Ci manca pochissimo Adesso Il momento che tutti aspettavamo L'antica statua barbarica La seconda Bim Ah te le fa mettere Tutte Però sono diverse Vedete C'è il terreno Che è totalmente diverso Sotto Questa la puoi Tranquillamente spostare Questa Invece della far rimuovere Però Intanto Ci godiamo Le due state barbariche Va bene ragazzi Per questo video Penso possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ringrazio Mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Questo zoom Lascia un po' Desidera Veramente Cioè mi fai spostare Le strutture così Un change Ho fatto Wow Tac E rientriamo questo Vi dicevo Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ringrazio Mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su facebook E farmi piacere le persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram E noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi